Attimi di paura ieri pomeriggio in Viale della Libertà. Il motore di un condizionatore posizionato sul balcone al primo piano di un condominio ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Le fiamme si sono estese all'abitazione rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto in pochissimi minuti a seguito dell'allarme lanciato dai condomini. Sul luogo dell'accaduto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale l'anziana che risiede all'interno dell'appartamento, la quale ha accusato un malore alla vista delle fiamme.